Ciao ragazzi, volevo dire di ciao a tutti, siamo qui io e mio padre, che in questo momento è impegnato a fare le foto. Oggi abbiamo deciso di fare un giro qua a Firenze, dopo aver sceso dalla stazione di Firenze Santa Milanovella. E dopo aver fatto una passeggiata in centro, siamo venuti qua a Fiesole, che fa comune proprio, non fa parte delle comuni differenze. Cosa abbiamo trovato? Questo panorama. Vi dico una cosa, sicuramente io e mio padre non ci aspettavamo un panorama di questo tipo, non lo so neanche voi. Da qua possiamo vedere tutto un agglomerato urbano, che oltre a Firenze, arriva anche quasi a Prato, che è vicino appunto a Firenze. Comunque, a me e a mio padre piace questo bel panorama, spero che piaccia anche a voi. Grazie.